È un momento difficile, il Salone Ufficio arriva quest'anno proprio in un momento difficile per le aziende del settore. Prevede che la situazione cambierà e anche che il Salone Ufficio possa essere un contributo da questo punto di vista? Sì, sicuramente il Salone Ufficio è un grande contributo per aiutare le aziende a uscire da questa crisi che ormai da sette anni ci sta attanagliando. Indipendentemente dai risultati che porterà il Salone ci sono già i primi segnali di ripresa perché le esportazioni finalmente sono uscite dopo i primi sei mesi con un segno più, perciò un segnale di grande ottimismo. Il Salone Ufficio per la sua parte aiuterà, come dicevo, le imprese in questo passaggio perché per la prima volta è un Salone Ufficio che cambia totalmente sia nella definizione intrinseca del nome WorldPlace 3.0 sia per l'offerta commerciale. e siamo convinti che il pubblico che presenzierà questo Salone troverà un'offerta quantomai diversificata di prodotti che gli consenteranno perciò di avere finalmente una panoramica oggettiva e molto trasversale di quello che il settore può offrire.